Oh mio Signore, ti prego, dammi la forza e il coraggio di operare affinché si possa realizzare il progetto che il Creatore ha preparato per me, umile ed indegna serva. Non credo di avere particolari meriti, ma se Lui vorrà, io sarò sempre pronta ad assecondare la Sua volontà, anche nelle dolorose prove che mi si presenteranno durante la mia umana esistenza. Barbara, umile, dolce e pura fanciulla, il Padre mio ha steso su di te la Sua mano. Egli è l'inizio e la fine di tutte le cose. Egli conosce la Tua infinita umiltà, la Tua forza e la Tua sincerità d'animo. Che Santa Barbara, a causa della sua fermezza e della sua perseveranza nella fede cristiana, Volti lo sguardo, oh Padre Santo, su tutti quelli che a me devoti, eleveranno a te sincero canto e d'ubidienza ti faranno voti. A Sissili, nell'affrontar dolore, dona la forza di vincere ogni male, fa che l'anima viva nel candore e che la notte sia luce vitale. Quelli che nel corpo sono affritti e indossano dell'umiltà alla veste, fa che non siano sconfitti, salvali dalla potente peste. Proprio oggi è il primo dei più importanti giorni della festa, la famosa entrata dei cantanti, che da sempre è un momento particolare in cui il popolo manifesta la propria fede alla patrona. Tramandare le tradizioni è una cosa meravigliosa e sentirlo attraverso loro. Una volta forse noi non ce l'avremmo fatto, ma loro già sono pronti. Facci i complimenti loro con un grande applauso. Siamo speranzosi per il nostro futuro. Tradizione non significa qualcosa di obsoleto, qualcosa di vecchio, che non serve più. Tradizione deriva da tramandare. E tutti noi abbiamo già ricevuto qualcosa, c'è stato tramandato qualcosa, la nostra fede, la nostra devozione alla Santa Patrona e la stiamo tramandando, la stiamo facendo passare anche alle nuove generazioni per custodire ciò che è un dono grande. E allora questa festa si è caratterizzata almeno da parte del popolo per una grande gioia, una grande speranza. Ho visto quest'anno questi segni, c'è tanto desiderio, tanta speranza e questo lo vogliamo comunicare anche ai nostri ragazzi che ci incoraggiano con la loro freschezza. Il 1998 abbiamo con la compiante collega Sara Vittorio ed io abbiamo ripreso questa tradizione con le scuole elementari. E' stata una bellissima esperienza, siamo arrivati al 25esimo anno. Il coro che sta alle mie spalle, formato da oltre 100 bambini appartenenti alle scuole primarie ed agli istituti comprensivi di Paternò, diretto dal maestro Sebastiano Cavallaro ed accompagnato con la tastiera dal maestro Alberto Cavallaro e con i violini da Barbara Cavallaro e Sara Lombardo. Esegurà due canti, il primo dal titolo O Barbara Santa, il secondo dal titolo Vergine e Martire. Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! sempre devolvo a te. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti